Più di 5,5 miliardi fono intercettati dalla regione dell'Umbria, compreso il PNRR, 3 miliardi e mezzo di euro, con i cofinanziamenti nazionali e regionali che ammontano ad 1,3 miliardi e poi il PNC, vale a dire le ulteriori risorse estanziate dai ministeri per raggiungere gli obiettivi del PNRR per un totale di 450 milioni di euro e 106 milioni per la sanità. Sono i dati che sono stati confermati nel corso di una riunione alla regione con la Presidente Donatella Tesei che aveva chiesto un resoconto specifico dello stato di attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza che vedono come soggetto attuatore la stessa regione. La maggior parte di questi fondi vengono assorbiti da 30 grandi opere per circa 3 miliardi e mezzo di euro, per un impatto che può portare a una crescita del prodotto interno lordo regionale. Da uno studio di AUR si evidenzia come, pur utilizzando un approccio cautelativo, il PNRR possa effluire sul PIL per più 1,1% nell'anno 2024 fino al 2026. Il PNRR possa portare a occupazione per circa 5.300 nuovi assunti l'anno. Il PNRR è arrivato dalla regione Umbria all'elisoccorso con la previsione di un servizio nell'ambito della ridefinizione della rete di emergenza urgenza regionale. L'obiettivo è quello di rendere autonoma l'Umbria nella gestione di patologie tempo dipendenti che prima erano gestibili solo su ruota o con l'intervento di elisoccorso attivato da altre regioni per garantire così un servizio di assistenza regionale in tempi rapidi. La sede del led di soccorso e dell'aeroporto di Foligno, gestito da EINEC, mentre la parte operativa, seguito di una gara indetta da punto zero, è stata definitivamente assegnata alla società Aviation SPA. L'inaugurazione del servizio dell'aeroporto di Foligno è avvenuta dalla presenza della Presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Teseida, l'assessore regionale della salute Luca Coletto, del sindaco di Foligno Zuccarini che ha evidenziato l'importanza di questo servizio per garantire la salute della popolazione nell'ambito del terzo polo sanitario. Il nostro obiettivo, ha detto la Presidente Teseida, è quello di garantire alla comunità Umbria un servizio per la gestione idonea, appropriata delle emergenze e urgenze, delle patologie e tempo dipendenti e garanzia di un'assistenza sanitaria di alto livello con tempi di intervento rapidi, in particolar modo nelle zone più difficili da raggiungere con automediche e ambulanze. Alcune patologie richiedono infatti veloce ospedalizzazione e tempestivi interventi di diagnosi e cura, salvaguardia della vita del paziente e della integrità funzionale. La copertura oraria del servizio del nuovo sistema di eliso corso regionale è di 12 ore al giorno come da convenzione con le marche e tenderà a garantire gradualmente la copertura notturna, quindi con un incremento progressivo di ore. A maggio 2023 è stata avviata la procedura per la costituzione dell'equipe sanitaria con circa 200 candidati provenienti dalle aziende sanitarie regionali. Il centro unico di formazione regionale in sanità ha quindi avviato i corsi di formazione e al momento l'equipe è completa con l'individuazione di 8 medici e 15 infermieri da dedicare a questo servizio, adeguatamente formati per il soccorso sanitario avanzato e di volo. Una giornata veramente bellissima, è un grande risultato per la sanità regionale perché dotarsi di un eliso corso ad uso esclusivo della regione Umbria significa dare le risposte a quelle patologie tempo dipendenti e quindi salvare le vite. Io sono molto contenta per questo risultato raggiunto, un risultato anche sofferto e che ha presupposto un grandissimo lavoro, un lavoro di squadra, però io ero molto determinata e fin dall'inizio ho detto che per l'Umbria occorreva sicuramente un eliso corso che fosse in grado di garantire in tempi veloci di arrivare in qualsiasi luogo anche i più remoti, i più interni della nostra regione per garantire l'efficacia dell'intervento e quindi per salvare le vite. Approvata nella giornata di martedì la revisione del regolamento europeo sui detergenti, le nuove norme mirano a rendere il settore dei detergenti più competitivo e sostenibile senza compromettere l'efficacia e la modernità dei prodotti. Un'approvazione elogiata dall'onorevole Francesca Peppucci del gruppo Forza Italia Partito Popolare Europeo. La deputata ha infatti sottolineato l'importanza del settore dei detergenti, specificando che la riforma introduce un'etichetta digitale per i prodotti per fornire ai consumatori maggiori informazioni e consentire alle imprese così di distinguersi sul mercato. Sino avanti sull'importanza della biodegradabilità, sul consumo corretto dei prodotti in termini di quantità, ma anche rispetto ai test sugli animali che devono essere evitati categoricamente. È stato fatto un grande lavoro cercando di coniugare le necessità delle imprese e del consumatore senza agire per ideologia, ma secondo il buonsenso e l'attenzione che in questo settore merita. Grazie. Qualcuno mi domanda ma che fine ha fatto lo stadio clinica, dato che finché questo pallino era in mano alla regione tutti ne parlavano e ora sono tutti inzietti. Non ha fatto nessuna fine signori. A breve, secondo me, l'operazione stadio clinica sarà messa in campo in maniera regolare e normale. Il mio terreno è pronto per costruire la clinica, io sono pronto per costruire la clinica e l'accordo che stiamo facendo in maniera molto trasparente con la ternana a calcio sta per arrivare. Credo che già entro poche ore, nella prossima settimana, sarà pronto e quindi tutto andrà avanti con regolarità. Un lettino reclinabile per biopsia mammaria sottoguida stereotassica che agevolerà le donne nell'attività di prevenzione del tumore al seno. Una procedura che permette di individuare anomalie mammarie e rimuovere campioni di tessuto mediante prelievo bioptico quando si sospettano anomalie mammografiche. È quanto donato dall'Associazione Unidea per la vita Ollus al servizio di senologia dell'ospedale di Gubbio Guadotadino. La donazione del valore di 11 mila euro è stata possibile grazie alla raccolta fondi che l'Associazione ha attivato lo scorso anno con una charity dinner e la presentazione del calendario 2024. Un progetto ricorrente il cui scopo e cui proventi sono volti a sostenere attività di prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Il calendario ha visto la partecipazione di 12 dottoresse, le quali con specializzazioni diverse supportano le pazienti oncologiche durante un periodo particolare della loro vita. Le professioniste sono state le prime a mettersi in gioco invitando le donne a prendersi cura di se stesse ricordando con lo slogan un anno può fare la differenza l'importanza della diagnosi precoce. Siamo molto orgogliosi di aver consegnato il lettino per la biopsia stereotassica all'ospedale di Branca. Ci tengo a ringraziare, veramente siamo una squadra perché dall'istituzione ai mecenati e a qualsiasi volontario abbia contribuito alla donazione. Noi quello che vogliamo fare è stare vicino alle donne, alle pazienti e dire a gran voce quanto è importante fare prevenzione. Noi le nostre charity dinner, i nostri raccolte fondi vengono sempre fatte per poi concretamente fare una donazione. Questa siamo felicissimi di averla consegnata proprio in senologia a Branca. Confagricoltura ha presentato alle istituzioni europee un documento con le sue proposte per una profonda semplificazione burocratica e la salvaguardia del potenziale produttivo delle imprese agricole. In concomitanza con la riunione del Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea si è infatti svolta lunedì scorso a Bruxelles l'Assemblea straordinaria dell'Organizzazione degli Agricoltori Italiani che ha visto riunita un'ampia rappresentanza di imprenditori di ogni regione d'Italia che hanno ascoltato i contributi dei rappresentanti delle istituzioni. Ora aspetta alle istituzioni dare una risposta efficace, non oltre marzo alle aspettative del mondo agricolo italiano ed europeo. Diversamente le proteste e le manifestazioni di piazza sono destinate ad aumentare. È stato questo il messaggio lanciato dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Tra i presidenti regionali intervenuti per l'Umbria ha parlato Fabio Rossi che portando in Europa la voce degli agricoltori umbri ha toccato il tema delle energie rinnovabili come valore strategico a sostegno della sostenibilità economica dell'impresa battaglia da portare avanti. Rossi ha quindi sottolineato l'importanza in agricoltura di agrivoltaico, biomasse legnose e biometanolo ricordando che per quest'ultimo c'è un progetto su cui si sta lavorando in Umbria. Per Confagricoltura, come ha spiegato poi Gianzanti, i limiti della PAC in vigore dallo scorso anno sono stati subito evidenti. Per applicare la nuova normativa le amministrazioni nazionali hanno dovuto redigere piani strategici di migliaia di pagine. Gli adempimenti burocratici sono saliti a dismisura a fronte di risorse finanziarie in calo ed eccezionale rialzo dell'inflazione ha aumentato le difficoltà degli agricoltori. Si è discusso molto sul bilancio dell'Unione europea destinato all'agricoltura ma l'aiuto diretto della PAC è ormai ridotto a 120 euro in media ad ettaro. Un'altra questione da affrontare, ha sempre evidenziato Confagricoltura, è quella della reciprocità delle regole negli accordi commerciali con i paesi terzi. Confagricoltura è convinta sostenitrice del libero mercato e del multilateralismo per la gestione del commercio internazionale, afferma Rossi, ma vanno previste clausole di salvaguardie automatiche quando i flussi delle importazioni raggiungono livelli tali da restabilizzare i mercati agricoli dell'Unione europea. Il Made in Italy è una risorsa importante la tracciabilità scientifica sul prodotto finito allo scaffale, fatto e coltivato in Italia, potrà creare quel valore aggiunto necessario ai nostri agricoltori e rendere economicamente sostenibili certe produzioni. Art Bonus, grazie alla donazione da parte del Lions Club della città di Perugia, ha raggiunto la somma necessaria per il restauro del manoscritto della Biblioteca Augusta, il primo libro delle piante e ritratti delle città e terre dell'Umbria di Cipriano Piccolpasso. Un manoscritto cartaceo del 1579 di 136 carte, composto di bifogli sciolti, non rilegato, che contiene il primo libro delle piante e dei ritratti delle città e dell'Umbria sottoposti al governo di Perugia. Il manoscritto attualmente è in pessime condizioni di conservazione, scucito con alcune carte macchiate e strappate, forate dagli inchiostri con la sospetta acidità o ossidazione. Si prevede quindi un restauro totale, con smontaggio, pulitura secco, lavaggio e deacidificazione, ricollatura, risarcimento delle lacune, sutura degli strappi, velatura e rammendo della piega. Come ogni anno ci teniamo ad essere presenti nella città in cui siamo radicati, lo facciamo sempre con passione, dichiara Antonio Cipiciani, presidente di zona del Lions, in una nota dell'associazione. L'assessore alla cultura Leonardo Varasano, ringraziando il club di Perugia, ha sottolineato la costante attenzione e sensibilità che da sempre caratterizza l'operato dei Lions nella valorizzazione della cultura del territorio. Un viaggio evocativo fra le pieghe del passato, emozioni, sogni e ricordi, è l'album Soundtracks, Films, Theatre Documentary che uscirà il prossimo 3 marzo, nuovo progetto musicale di Francesco Verdinelli, romano ma umbro d'adozione, che contiene tra gli altri anche brani che prendono ispirazione da Calvi dell'Umbria, un luogo del cuore dell'artista. Composizioni musicali ipnotiche, intense e delicate, spesso avvolti in un'insolita mescolanza di risonanze che scivolano tra le pieghe del nostro passato e danno forma ad emozioni, ricordi e sogni. L'album contiene 16 tracce che prendono spunto dalle tante collaborazioni condivise nell'arco di anni con diverse realtà che spaziano dal teatro alla musica passando per il cinema. Tra i brani Heaven in Your Chest, tratto dalle musiche di scena dello spettacolo teatrale Aulularia Mystical Suggestion, la cui ispirazione viene da un luogo in Umbria che l'autore ha sempre vissuto come particolarmente suggestivo, Calvi dell'Umbria. Il brano inserito è infatti nella colonna sonora del documentario Calvi, la porta felice dell'Umbria, trasmesso su Rai 3. Calvi dell'Umbria è infatti un borgo speciale per l'autore, un vero e proprio buen retiro, da cui trae spesso ispirazione per le proprie composizioni. Un database con 10.000 pezzi tra disegni, incisioni e carte d'archivio che consente di attingere da remoto al patrimonio artistico dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. Lo stato di avanzamento dei lavori del progetto di realizzazione della teca digitale dell'Accademia è stato presentato agli addetti ai lavori e agli studenti. Un importante lavoro finalizzato alla creazione del database in corso d'opera è nato nel 2022 dalla collaborazione dell'Università degli Studi di Perugia, in particolare Dipartimento di Lettere, letterature civiltantiche e moderne e quello di matematica informatica e l'Accademia in occasione di un bando dedicato al tema della digitalizzazione indetto dalla Fondazione Perugia che l'ha finanziato. Grazie ad uno scanner professionale di grandi dimensioni si procede con la digitalizzazione delle opere, alla creazione di un database che potrà essere continuamente implementato e consultato online dal pubblico. Un progetto che si realizza grazie anche alla messa a disposizione da parte dell'Accademia di due borse di studio, una destinata all'attività sistemistica collegata alla creazione di un database in tecnologia Docker, alla realizzazione di un sito web per l'import delle immagini scansionate di disegni, stampe e materiali documentario dell'Accademia, l'altra rivolta all'attività vera e propria di catalogazione e digitalizzazione di disegni, stampe e materiale documentario. A questo primo incontro, dedicato agli addetti ai lavori del settore e agli studenti, seguirà tra pochi mesi la presentazione ufficiale al grande pubblico che potrà accedere liberamente alla teca digitale. Ha voluto festeggiare il 101esimo compleanno all'interno del suo negozio nel centralissimo Corso Cavour, aperto nel 1946 dietro al bancone di lavoro con l'immancabile monocolo da orologiaio ben calzato nell'occhio intento a mettere a fuoco gli ingranaggi più piccoli degli articoli da esaminare e riparare. In realtà lo ha utilizzato per leggere bene i tre numeri conficcati nella panna della torta che i familiari e amici gli hanno preparato per festeggiare come si conviene un traguardo di vita così importante 101 anni, quelli che oggi ha raggiunto Giovanni Talamelli, nato il 27 febbraio 1923 ad Umbertide. Da tutti conosciuto come Nanni è lo storico maestro orologiaio e orefice di città di Castello per eccellenza che ha segnato dal dopoguerra ad oggi il cambiamento di costumi e tradizioni di tante persone. Aiuto i figlioli che li ho rilevati però qua dentro. Io ci ho fatto 70 anni qua dentro di lavori forzati perché molte volte si abbarcava il lavoro e allora toccava venire giù anche la sera. dopo ho sposato e allora ha detto c'ho un aiuto. Peggio ancora perché c'era ancora più roba da far vedere. Esplora le infinite possibilità di vivere la tua casa. Crea lo spazio perfetto per esprimere te stesso. Dal 2 al 10 marzo a Bastia Umbra. Non perdere la quarantesima edizione di Expo Casa, la più grande fiera dedicata all'home living del centro Italia. Potrai scoprire le nuove tendenze di design di interni, arredamento, architettura, edilizia e molto altro. Ti aspettiamo a Umbria Fiere dal 2 al 10 marzo. Tutte confermate le buone notizie annunciate per la ripresa degli allenamenti di martedì pomeriggio in casa Perugia. Lo scrivono i quotidiani locali, il messaggero alla nazione ed il Corriere dell'Umbria. Si sono rivisti Angela e Vasquez che hanno calciato il pallone e saranno protagonisti di una settimana di recupero atletico. In settimana tornerà anche Bozzolan mentre erano già a pieno ritmo. Sia Kuan che ha scontato la squalifica che Ricci. Unici assenti oltre a Delorco. Risultati degli esami in arrivo. Già la prossima settimana dovrebbe tornare. Erano Polizzi e Vulichice. Quest'ultimo però sta per affrontare le prove da sforzo e presto tornerà anche lui. Ora Formisano potrà finalmente scegliere. Dovrà essere brava a dosare l'utilizzo dei più esperti e dei giovani senza perdere di vista la lotta per il terzo posto. Con l'area canatese in difesa intanto potrebbe essere confermato Suaree. Miglioramenti fisici di Angella permettendo. Da martedì alla ripresa nel gruppo lavora anche l'attaccante Alain Badirou, classe 2005 francese che gli scouti di Giuliarelli hanno individuato nell'under 19 dello Chambly. Badirou resterà in prova per qualche giorno tra prima squadra e primavera ed è una possibilità concreta in chiave futura dall'estero dopo i vari Sadetinov, Suaree, Agosti, Licunas e Lewis. Credo che questa sia la più grande soddisfazione in un gruppo del quale sono orgoglioso per tante cose. Cioè la capacità di capire che il calcio in generale, ma la B è questa, magari non vince con l'Eco ma poi vince la Palermo. L'importante è sempre cercare di fare le cose giuste e quando si può muovere la classifica e quel punto di l'Eco diventa importante per questo. Però a di là di questa c'è stata una grandissima prestazione di intensità, di personalità, di intensità fisica e mentale perché fino alla fine abbiamo provato a continuare a far gol, a giocare la palla, attaccare la profondità. Bene, è una grande partita e ce la godiamo tutta quanta. Sì, oggi e stasera ce la godiamo. Da domani dobbiamo preparare una grande partita con la squadra più forte del campionato con l'idea però ugualmente, che non sia semplice anzi, però di provare a far punti con tutti e in tutti i modi. Ha già incontrato il papà d'avversario, la prima volta non andò bene, ma domenica spera in una sonora rivincita Alessio Brambilla. Domenica ha fatto il suo esordio da titolare nel Gubbio a Dolbia e domenica prossima si ritroverà di fronte il padre Massimo che ha un gran bel passato da calciatore e dell'attuale allenatore della Juve Next Gen. Il battesimo contro papà, sottolinea Brambilla al Corriere dell'Umbria, c'è stato nella stagione 2018-2019 quando giocavo con la primavera del Milan e lui allenava l'Atalanta, vinse e mi prese in giro e non poco, stavolta però voglio essere io a festeggiare. Ieri intanto il centravanti Gabriele Bernardotto si è sottoposto a un esame strumentale e la risposta è stata buona, viene da un lungo periodo di inattività, ma contro la Juve Next Gen potrebbe giocare uno spezzone, in ogni caso lo staff medico e Brambilla valuteranno la situazione, anche Mercadante si è sottoposto a controlli strumentali, sta guarendo, ma ad Alessandria non ci sarà da valutare le condizioni di Signorini, anche lui sottoposto a un'ecografia, buone notizie invece per Corsinelli, abile e arruolabile. Ripresa dei lavori al Palabarton per la Sir Perugia, i Block Devils sono tornati in palestra per una doppia seduta di allenamento in vista dell'ultimo turno di regular season che vede per i bianconeri la trasferta di domenica a Milano in casa dell'Allianz di Coccia Piazza. Si guarda domenica, ma anche un pochino più in là in casa Sir Perugia, perché con il secondo posto già in cassaforte, Coccia Lorenzetti e il suo staff stanno lavorando anche in funzione dell'inizio della post-season, con i play-off scudetto che partiranno con gara 1 dei quarti di finale, subito mercoledì 6 marzo. Perugia sarà di scena sicuramente al Palabarton alle 20.30, con la prevendita dei biglietti che aprirà lunedì mattina 4 marzo alle 12, con i consueti canali di acquisto non appena sarà noto l'avversario dei Block Devils. Con una sola partita di campionato ancora da disputare, anche se diverse sono già le sentenze ammesse, ci sono infatti al tempo stesso ancora alcuni piazzamenti nella griglia play-off in bilico. Trento prima, Perugia seconda, Modena ottava e quindi avversaria di Trento nei quarti play-off, Cisterna e Padova al play-off challenge, Catania retrocessa in Serie A2. Queste le questioni già definite dalla Superlega. Il resto, vale a dire piazzamenti dal terzo al settimo, sono ancora in forze con diversi possibili finali in base ai risultati dell'ultimo turno. Grazie. 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 Grazie.